buongiorno a tutti sono il professor pasqualin e vi do il benvenuto a questa lezione del mio corso di letteratura italiana ho già dedicato una lezione introduttiva alla scuola poetica siciliana quindi dovremmo avere ben presente l'ambiente culturale in cui questi artisti sviluppano la loro poesia la loro sensibilità e dovremo anche conoscere almeno in maniera basilare quella che è la situazione storica dell'epoca e quindi del governo di federico ii di svevia oggi invece vorrei proporvi un approfondimento su uno dei poeti della scuola siciliana abbiamo già dedicato una lezione a giacomo d'alentini mentre oggi vi voglio parlare di pier delle vigne o pier della vigna che dir si voglia abbiamo già detto che i poeti della scuola siciliana provengono dall'ambiente della corte di federico secondo in cui sono integrati come funzionari quindi potremmo dire che la poesia è un'attività collaterale alla loro vita a corte pier delle vigne è un notaio ha ricoperto dei ruoli di primaria importanza nella corte di federico secondo è nato a capua nel 1190 presso poco circa non abbiamo la data esatta da una famiglia molto umile povera pier della vigna è vissuto in condizioni di ristrettezza economica e questo gli ha creato dei problemi anche per garantirsi la possibilità di studiare queste sono le testimonianze che abbiamo comunque ha potuto istruirsi a bologna quindi ha studiato presso l'ateneo prestigioso di questa città fondamentale per la storia della cultura europea e ne esce appunto con le capacità necessarie per diventare un funzionario di prim'ordine viene chiamato a servizio di federico secondo di sbevia svolge dei ruoli importantissimi tuttavia a un certo punto iniziano a circolare su di lui delle male lingue si dice che segretamente trami con il papa contro l'imperatore e queste notizie arrivano anche alle orecchie dell'imperatore che non la prende affatto bene cosa significa tramare con il papa in questo momento storico faccio una banalizzazione una sintesi estrema federico secondo non era in buoni rapporti con il papa va bene nella sua epoca veniva definito l'anticristo certo questi erano degli attacchi politici che gli venivano mossi dai suoi avversari però dobbiamo tenerlo in considerazione federico secondo per la sua epoca dal punto di vista religioso era un uomo piuttosto spregiudicato quando noi parliamo di stupor mundi in riferimento a come veniva chiamato nella sua epoca non stiamo citando un soprannome diciamo positivo va bene stupore era sinonimo di di terrore di spavento di qualcosa di non positivo va bene quindi non è sicuramente un un appellativo diciamo appunto buono positivo quello che gli veniva rivolto dante nel convivio definisce federico secondo ultimo imperatore degli romani però nella divina commedia come vedremo cambierà opinione apparentemente e punto di vista sul monarca pier della vigna quindi ha su di sé dei sospetti pesanti e federico secondo non gliela fa passare liscia lo fa accecare lo fa rinchiudere in carcere e questo poeta notaio funzionario della corte imperiale morirà a san miniato nel 1249 togliendosi la vita quindi suicida vi ho citato dante adesso torniamo a dante perché perché dante nella divina commedia inserisce pier della vigna tra i dannati quindi lo inserisce tra i personaggi che popolano l'inferno ricordiamo sempre che dante pone all'inferno federico secondo di svevia lo pone nel decimo canto dell'inferno tra gli eresi archi quindi dante ha mutato il suo giudizio su federico secondo evidentemente tenendo conto di questa grave controversia che l'imperatore ha avuto con il capo della della chiesa cattolica il papa in che posizione si trova nell'inferno pier delle vigne pier delle vigne si trova nel tredicesimo canto tra i suicidi suicidio è considerato un peccato gravissimo dalla dottrina cattolica dante e la sua guida virgilio poeta latino si trovano in una selva di rovi fittissima che è la selva dei suicidi è un bosco spinoso in cui dante e virgilio si avventurano e scoprono ben presto che rinchiusi dentro questi arbusti irti di spine ci sono gli spiriti dei dannati di coloro che si sono suicidati hanno fatto violenza al loro stesso corpo dante spezza un rametto io vi sto facendo un riassunto la pianta si lamenta e si scopre che in questa pianta alberga pier delle vigne il poeta che però dante non presenta tanto come poeta ma come funzionario della corte di federico secondo quindi c'è pier delle vigne che racconta la sua storia e che spiega quello che gli è successo è interessante tenere in considerazione che qui dante con l'immagine degli alberi al cui interno si trovano delle anime e che quando viene spezzato un ramo si lamentano si ricollega in maniera diretta all'opera del suo maestro e guida cioè virgilio è un chiaro riferimento all'eneide a un passaggio dell'eneide in cui si trova esattamente la stessa la stessa scena quindi vedete anche l'importanza della descrizione che virgilio dà delle neide dell'aldilà per dante per costruire appunto la sua struttura dell'inferno del purgatorio del paradiso che cosa dice pier delle vigne a dante pier delle vigne a dante dice che è stato accusato ingiustamente e infatti gli storici gli studiosi di letteratura dibattono molto sulla morte sul caso della morte di pier delle vigne o pier della vigne appunto che dir si voglia perché pare che i sospetti che lo hanno portato alla condanna e quindi a togliersi la vita in carcere fossero sospetti infondati ingiusti pier delle vigne non stava tramando contro il suo signore contro federico secondo dante dice che tutto ciò è nato dall'invidia che questa chiamiamo la congiura contro il poeta e funzionario è nata da un complotto contro di lui che è stato agitato da un sentimento di invidia che dante considera qualcosa di frequentissimo di molto presente nelle corti dei signori vediamo che cosa dice di se stesso pier delle vigne lui dice nella divina commedia siamo nel canto tredicesimo pier delle vigne dice io son colui che temi ambo le chiavi del cor di federigo e che le volsi serrando e disserrandosi suavi che dal secreto suo quasi ognuno tolsi fede portai al glorioso ufficio tanto che ne perdevi sonni e polsi quindi pier delle vigne arriva vicinissimo a federico secondo vive a stretto contatto con l'imperatore diventa depositario dei suoi segreti diventa suo confidente potremmo dire e questo gli attira l'invidia di altre persone della corte che vorrebbero scavalcarlo che vorrebbero prendere il suo posto da qui il motivo della condanna ingiusta contro pier delle vigne che si è trovato vittima appunto delle invidie di corte questa è la biografia di pier delle vigne che vi ho voluto raccontare perché la vedremo nuovamente studiando la divina commedia ma perché appunto integra la riflessione l'approfondimento che abbiamo fatto sulla scuola poetica siciliana ed è un elemento di cultura generale affascinante e che è importante avere nel proprio bagaglio culturale la storia di pier delle vigne rinchiuso ingiustamente e che poi si tolse la vita in carcere non ha mai smesso di far discutere gli studiosi gli storici sono stati scritti romanzi su questa storia ed è una storia che per noi rimane ancora misteriosa e interessante vi saluto vi ringrazio per la vostra attenzione e buono studio a tutti